Viareggio si veste a festa per Pasqua, ma a dispetto dell'entusiasmo di qualche giorno fa non si prevede il tutto esaurito. L'inaspettato clima di stampo ancora invernale ha infatti rallentato le prenotazioni alberghiere per le festività. Tutte le strutture sono aperte, pronte per l'inizio della stagione, ma il vero banco di prova sarà rimandato ai ponti del 25 aprile-primo maggio, quando, si spera, le temperature saranno pienamente primaverili. Sicuramente presenza in città, al momento purtroppo tutte le strutture registrano ancora della disponibilità, il meteo sicuramente non ci ha aiutato, la temperatura è bassa, le previsioni non sono delle più belle e sicuramente le nevicate appena fatte in montagna hanno più invogliato a raggiungere le città sciistiche per un'ultima sciata di fine stagione. Si guada già con ottimismo invece al 16 maggio, giorno dell'arrivo del Giro d'Italia, atteso da 40 anni in città. Le categorie, insieme all'amministrazione comunale, hanno varato le iniziative per creare un ponte rosa di quattro giorni, dal sabato al martedì, fra talk show, cene e aperitivi nei luoghi simbolo della città. E Federalberghi ha lanciato un videospot per promuovere sui social Via Reggio come città delle due ruote. Abbiamo creato dei pacchetti ad hoc con diverse cosine interessanti che offriamo alla clientela, ognuno ne offrirà diverse a seconda della grandezza della struttura. Sicuramente tutti un aperitivo in rosa di benvenuto, possibilità di portare biciclette in camera, ticket gratuito del parcheggio, ombrellone convenzionato con gli stabilimenti balneari. Da questo, in breve tempo, è nata l'idea proprio da un gruppo di Federalberghi di creare un video promozionale della nostra città legato proprio a quel giorno.